Buonasera e ben ritrovati a Klagemauer TV. Mentre ancora tutt'oggi la televisione tedesca trasmette documentari sull'Olocausto e i tremendi campi di concentramento, la notizia che siamo per ascoltare sembrerebbe non sia stata pubblicata da alcun mass media. Per anni e anni Otto Utgenant ha raccontato nelle scuole e durante manifestazioni commemorative del suo tempo di reclusione di 5 anni come bambino ebreo nel campo di concentramento di Buchenwald, Jaren, Wildeshausen e via dicendo. Per decenni commosse studenti insegnanti con le sue dichiarazioni, secondo le quali a causa dell'Olocausto perse ben 72 parenti, tra i quali padre, madre e sorella. Ora però sono state eseguite delle ricerche da cui risulta che la famiglia Utgenant non è mai stata deportata in campo di concentramento. Padre, madre, sorella e figlio sono sopravvissuti alla guerra di Göttingen. Quindi Otto Utgenant, il presunto prigioniero del campo di concentramento, ha completamente inventato la sua storia di sofferenze. A sua difesa, disse solo, pare che abbia una buona fantasia e che ormai sono un bravo imbroglione e, in fondo, non l'avevo pensata male. Ad accuse più concrete ha rifiutato di entrare in merito dicendo Improvvisamente, dopo essere stato scoperto, non vuole nemmeno più essere stato ebreo e così i suoi delitti vengono ora spacciati come una bugia di un cristiano evangelico. Beh, allora si dovrebbero preparare i cristiani evangelici ad un'immensa ondata di disprezzo. E come procede la giustizia con questi falsi testimoni e i mass media principali? Da entrambi sembrerebbe regnare il silenzio più totale. Ma non si danno nemmeno la pena di fare successivi accertamenti? Una simile situazione? La storia della truffa della JCC, Jewish Claim Conference, ovvero la conferenza ebraica di restituzione, che si è intascata a più di 42 milioni di dollari con gli attestati falsificati di circa 5.600 richieste di rimborso dell'Olocausto. Di questo ora semplicemente non se ne parla più. E perché? È veramente insignificante sapere come è proceduto con tutti i risparmi dei tedeschi? E anche per quest'oggi vi lasciamo con una citazione, e questa volta di Alberto Moravia. Dove mancano notizie, nascono dicerie. Cari telespettatrici e cari telespettatori, il popolo ha diritto a voce contro voce, per cui aiutateci a diffondere le notizie di Klage Mauer e consigliate il nostro link anche ad altri www.klagemauer.tv Allora arrivederci a presto!